speciale e io vorrei chiamare subito qui, non il premiante ma i premianti, vorrei chiamare insieme a noi Petra Ventura Marketing e Communication Record di Wincomobile, buonasera Petra e Massimiliano Laperinto General Manager di Concord Italia, buonasera. Allora Dario, diamo subito alla motivazione. E allora motivazione per il premio allenatore dell'anno, per aver guidato con personalità e intelligenza la Sampdoria, rivelazione della serie anche in virtù della precisa identità tattica e di un gioco vincente, il premiato si è consacrato quest'anno a un autentico football leader. Dammi un po' di musica alta caro Gianluca Carbone, l'allenatore che mai no, è Sinisa Mihailovic! Buonasera Mister! Buonasera Mister! Buonasera! Prego! E allora caro Mister, subito su questo premio allenatore dell'anno, se se lo aspettava, se ne fa piacere, spero di sì, non ci metta in difficoltà, eh? Sicuramente mi fa piacere, perché so che ci sono molti allenatori più grandi di me, ma fortunatamente per me ha toccato a me quest'anno, perciò sono felice per questo premio, sapendo anche da dove arriva, è sicuramente una cosa bella che non mi aspettavo, ma magari speravo nel secondo del futuro.